Cari amici, tanti saluti da Serafino Massoni. Oggi è lunedì 27 settembre 2010. Questa invece è la copertina di un numero di famiglia cristiana dello scorso agosto. Il fatto è che io tutte le mattine ve l'ho detto, no, vado al bar, perché al bar capisco meglio come vanno le cose di questo mondo. E lì, 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 abbandonata da qualche parte, non te vedo sta rivista. Io quando vedo sta rivista, questa immagine prima pagina, mi è sembrato di toccare il cielo con un dito, perché ho detto, vedi, vedi, quanto si interessa la famiglia cristiana e della famiglia monogamica patriarcale, vedi, vedi, vedi. Allora, mi sono detto subito, io che salto che ho fatto, cari amici, quando ho visto sta foto, vedete? Mamma e figlia, vedete quanto sono contento. Poi vi racconto perché sono contento, tanto contento, mamma e figlia. Vedete quanto sorridono? Allora, io gli ho detto al barista, Senti, barista, sta rivista giace qua abbandonata dal mese d'agosto. Me la dai, me la dai? Che ci faccio un video, ci faccio un video? Lui mi ha detto che me la potevo portare a casa, la rivista, e così io non ci faccio sto video. Allora, io quando mi sono fermato a guardare la copertina, mi sono detto, non c'è mica bisogno che io vado a leggere l'articolo che sta scritto dentro, non c'è bisogno. Ma io me lo immagino già quello che ha scritto la redazione di Famiglia Cristiana a sostegno di questa immagine che campeggia qua in copertina. Io sono sicuro che l'articolo scritto dalla redazione di Famiglia Cristiana è grossomodo il seguente, il seguente. Ecco, allora io vi dico qual è l'articolo che sta nelle pagine interne e mi riferisco a questa immagine. E pure se non l'ho letto l'articolo, siccome conosco bene la rivista Famiglia Cristiana, adesso io ve lo descrivo, un facsimile di articolo. Allora, l'articolo comincia così. Cari lettori, vedete la immagine di copertina? Madre e figlia, vedete quanto sono contente? Adesso noi della redazione di Famiglia Cristiana vi spieghiamo come stanno le cose per tutta questa contentezza di madre e figlia, con famiglia. Allora, noi della redazione sguinzaliamo i nostri redattori e i nostri fotoreporter nelle sedi dei palazzi di giustizia dove si tengono le cause di separazione regale del divorzio. Stamattina i nostri redattori e i nostri fotoreporter hanno visto i sci da un'aula di giustizia e questa madre e questa figlia tutte contente, tutte contente. Gli avevamo detto i redattori, i giornalisti hanno detto ai fotoreporter fategli una foto, fategli subito una foto guardate quanto sono contenti. e così gli hanno scattato sta foto questa foto che noi abbiamo deciso di mettere come foto di copertina poi, poi mentre queste madre e figlia qua si andavano verso l'uscita tutte contente noi gli abbiamo messo vicino a madre e figlia un nostro redattore col microfono e abbiamo registrato la loro conversazione una conversazione amabile assai che ve la riportiamo pari pari perché l'abbiamo microfonata l'abbiamo registrata capito? allora la conversazione pari pari dice le seguente cose la mamma dice la figlia figlia, figlia mia ma hai visto, hai visto, hai visto? in un colpo solo io me sono liberata di quel cretino di mio marito e tu ti sei liberata di quel cretino di tuo padre e la figlia ti rimando mamma, mamma e che cosa ha stabilito il giudice come assegno per il mio mantenimento e la mamma 2000 euro figlia mia 2000 euro al mese 2000 euro al mese più i 1500 euro al mese che prendo io come professoressa di liceo con 3500 euro più la casa dove ci abitiamo senza pagare l'affitto perché questo ha stabilito il giovane e il giudice e noi noi vivemo da signore da signore e allora la figlia mamma, mamma così mi posso laureare senza fretta? certo figlia mia gli risponde la mamma certo figlia mia te puoi laureare senza fretta con calma non te devi lasciupare figlia mia e poi quando te sei laureata e non è che papà te lo potrò gliel'assegno perché la suprema corte di Cassazione ti ha stabilito tante volte che non è che il padre il padre di famiglia gli può togliere l'assegno al figlio quando si laurea il padre di famiglia deve aspettare che il figlio si è sistemato ma sulla base del titolo di studio figlia mia e siccome prima che tu ti possa sistemare sulla base del titolo di studio che prenderai sarai pure tu laureata in giurisprudenza e poi dei avvocati ce ne sono tanti 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 in Italia tanti e prima che tu possa lavorare quanto tempo che passerà e papà tu dovrà continuare a scusire duemila euro capito duemila euro tu studia tranquilla non ti sciupà poi quando pure ti sei laureata e finché non c'hai un lavoro all'artezza della laurea tua papà deve continuare a scusire duemila euro al mese che tra l'altro il giudice ha detto pure che duemila euro sono adesso però devono essere adeguati sulla base delle variazioni del costo della vita e cari lettori quanti erano contenti queste due belle donne qua madre e figlia madre e figlia in famiglia poi andate a dire che non è una cosa bella la famiglia monocamica guardate vedete quanto ridono se non c'era la famiglia monocamica patriarcale queste due gamiche ritevano così bene beh fatto sta che a un certo punto la ragazza dice mamma mamma allora ci posso andare a fare gli stage nel Galles perché papà non voleva che io gli facevo gli stage papà e la madre gli rimando ma certo figlia mia certo figlia mia che gli devi da fare gli stage nel Galles e tra l'altro tuo padre deve da scusi altri sordi perché con la nuova legge dell'affido condiviso l'affido condiviso se c'è qualcosa da spendere in più lui deve partecipare per un altro 50% delle spese straordinarie hai capito figlia mia figlia mia l'affido condiviso l'affido l'affido condiviso e mamma mamma ci posso andare da sola nel Galles sì figlia mia ci puoi andare da sola nel Galles a fare gli stage tua però ci viene pure mamma tua con te perché pure mamma tua c'ha bisogno di fare qualche stage nel Galles capito e mamma tua non ti dà fastidio tu vai a fare gli stage per la strada tua e mamma tua va a fare gli stage per la strada sua capito capito e ci rivediamo solo di sera in camera d'albergo per dormire anche se non è detto che mamma tua rientri in albergo per dormire capito più facile che resti fora mamma tua capito e allora la figlia quanto so contenta mamma quanto so contenta so adesso si che so rilassata so che me posso lavorare senza correre senza rovinare me se la salute e dopo la laurea non me devo sbrigare non me devo sbrigare a trovare un lavoro perché la suprema corte della Cassazione ha detto che papà mi si deve da mantenere fino a quando c'è un posto di lavoro all'artezza della laurea mia senti senti mamma e che cosa devo fare mammina mammina per fare anch'io anch'io quello che hai fatto tu mammina e allora la mamma ti rimando si figlia mia al momento giusto ti devi trovare pure tu un bel merlo canferino e gli devi riprendere misure del portafoglio suo e della cretineria sua quando hai trovato sto merlo canterino che lui di certo te vuole portare a casa sua per fate se conosce mamma sua mamma sua tu devi da tenere sempre i occhi bassi puntati a terra e quando stai a parlare con mamma sua tu devi solo ascoltare e non devi parlare perché la mamma la mamma dal merlo canterino vuole soltanto che tu apra bocca per rintuzzarti qualsiasi cosa tu dica fia mia la madre del merlo canterino che tu ti sei trovata e dirà sempre che tu sbagli allora tu non parli non parli e non gli dai la soddisfazione diciamo di replicare replicare e lui gliela dai e se sei la mamma del merlo canterino che domani sarà la socia la tua è tutta incazzata perché tu non gli dai la soddisfazione di parlare quindi non può replicare a un certo punto tutta incazzata si rivolge al principino suo e gli dice ma senti un poffio mio ma com'è che sta ragazza tua che tu te la vuoi sposare non parla sta sempre con gli occhi bassi non parla allora il merlo canterino gli dice alla mamma sua mamma mamma la ragazza mia che presto sarà la sposa mia la nuora tua è tanto timida si vergogna pure dell'ombra sua capito è tanto timida è tanto timida allora quella brutta donna che deve entrare la suocera tua ti dà la brutta occhiata ma un po' di niente capito siccome tu non hai parlato un po' di niente poi tu con quella brutta donna che è la madre del merlo canterino che ti porti in comune in chiesa per sposarti che pensi tu a dire quello che si è meglio dopo che il merlo canterino ti sei sposata perché dopo che il merlo canterino che tu ti sei trovata ti sei sposata tu alla socia la tua gli puoi di tutto quello che ti pare e lei non può fare altro che schizzate rabbia capito però devi aspettare prima di venire sposata capito di venire sposata e poi gli puoi di tutto quello che vuole gli puoi di tutto quello che vuoi alla socia la tua insomma cari lettori di famiglia cristiana e il discorso è andato avanti così per un bel po' non ve lo raccontiamo tutto perché 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 l'articolo sarebbe troppo lungo fatto sta che vogliamo darvi una minima spiegazione anche relativamente a questa fotografia perché soltanto madre e figa in famiglia in famiglia e perché noi ci siamo rifatti sui dipinti della sacra famiglia Gesù Giuseppe e Maria nella sacra famiglia tutti i pittori per duemila anni di seguito hanno fatto migliaia 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 di dipinti della sacra famiglia andove ci stanno Gesù Giuseppe e Maria allora in questi migliaia 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 di dipinti non ce n'è manco uno manco uno andove Maria guarda in faccia Gesù non lo guarda mai in faccia Gesù Maria non lo guarda mai in faccia Giuseppe mai guarda soltanto Gesù Maria Giuseppe non esiste per Maria allora noi nella redazione famiglia cristiana abbiamo detto se Maria la sposa di Giuseppe e non lo guarda mai in faccia Giuseppe in questi migliaia e migliaia e migliaia di dipinti che i grandi pittori hanno fatto sulla sacra famiglia e beh la cosa migliore è che noi qua in copertina il marito lo togliamo del tutto sia un marito sposato che un marito divorziato un marito separato non ce lo mettiamo non ce lo mettiamo tanto è come che non esista il marito capito non esiste noi non ce lo mettiamo e questa è la sacra famiglia vedete madre Fianfania ecco noi speriamo di aver fatto un buon servizio per i nostri lettori in modo che tutti possano apprezzare diciamo così la bellezza la grandezza della famiglia monogamica e patriarcale la redazione vi saluta tutti e alla prossima puntata